E' martedì 10 gennaio 2012, siamo a Pitti Immagine Uomo, alla fortezza da basso di Firenze. I tre storici brand del gruppo Basic, K-Way, Jesus Jeans e Sabelt, sono protagonisti all'interno del Pitti con tre stand separati ma contigui all'interno del padiglione Cavaniglia. Il fenomeno K-Way, rilanciato dal gruppo di Marco Boglione nel 2007, torna a Pitti per la terza edizione, sempre più forte e consolidato sul mercato, con i suoi prodotti classici, contemporanei, funzionali, tecnologici e colorati. Jesus Jeans affronta la sua seconda edizione al Pitti dopo il grande rilancio del giugno scorso, con una collezione in tessuti denim trattati toxic free e tracciabilità totale, grazie a un'etichetta con codice univoco che contraddistingue ogni capo. Infine, l'ultimo arrivato in casa Basic, ma forte di una tradizione che affonda le sue radici all'inizio degli anni 70 e Sabelt, storico brand di driving shoe moderne, comode, sicure, funzionali, italiane. Nei tre stand sono esposte le novità della collezione Cotreco 4 2012 e tutta la filosofia dei tre brand che, pur non abbandonando il loro DNA di abbigliamento sportswear, entrano ormai a pieno titolo nel segmento fashion del mercato mondiale.